Sesta corsa dall'arcoveggio di Bologna, una prova per tre anni, vincitori da 2.500 a 10.000 euro in carriera, sono in 10 dietro le ali della macchina, non partente il 9 di Elsa. Quanto start si mette in movimento, all'uno Eros Gad Francesco Tufano, due Enterprise Gar Antonio Di Nardo, tre LJ Gennaro Amitrano, quattro Eschal Mill Giorgio Cassani, cinque Eldorado Andrea Bigliardi, sei Helios delle Lame VP dell'Annunziata, in seconda fila sette Elmar Carmine Piscuoglio, otto Ercole Ferra Roberto Vecchione, dieci Ennio Griff Giuseppe Pistone, undici Eckebel Jet Marco Stefani. Con molta cautela Helios delle Lame, che si ritrae dal 6, piano anche Eldorado, e si parte con velocissima Eschal Mill, che si porta subito a condurre su Enterprise Gar, che rimane in seconda posizione avanti ad Eros Gad, quindi LJ, poi Ennio Griff alla corda Elmar, quindi ancora Eckebel Jetter, Ercole Ferra, Eldorado. Se ne vanno i primi 200 metri di corsa con Enterprise Gar, che chiede o tiene strada ad Eschal Mill, che lascia sfilare volentieri la favorita, 14 e 9 per il lancio. Seconda posizione per Eschal Mill, che precede Eros Gad, allo scoperto LJ con in pariglia Ennio Griff, quarto alla corda è Elmar, che precede Ercole Ferra, quindi Eckebel Jetter ed Eldorado. I 400 se ne sono andati in 29,4, la battistrada Enterprise Gar, preso la testa senza patemi, ora gestisce il ritmo 46 per i primi 600 metri di corsa, passaggio davanti alle tribune, con Enterprise in vantaggio, Ennio Griff che muove in terza ruota, cerca di aggirare LJ per portarsi allo scoperto. Lungo la corda rimane Eschal Mill, poi si muove dallo steccato Elmar che va a fare la seconda pariglia alle spalle di LJ, mentre Ennio Griff rimane per il momento appeso in terza ruota. Il chilometro in 1,16 e 6, è in vantaggio Enterprise Gar nei confronti di Ennio Griff che ora dà il parziale sulla retta opposta alle tribuna, scavalca LJ e si porta accanto alla leader, la retta opposta passata in 14,3 in accelerazione, Enterprise Gar su Ennio Griff che deve restare di camminata perché è brutto sulla curva, alla corda rimane Eschal Mill, poi lungo lo steccato guadagna Eros Gad, la retta d'arrivo per Enterprise Gar che è in vantaggio su Eschal Mill, quindi Eros Gad che prova a venire a fare l'arrivo, Enterprise Gar che nel finale viene a vincere come vuole, al secondo posto finisce Eros Gad, mentre per il terzo c'è foto stretta tra Ennio Griff che di tutte le camminate torna su Eschal Mill. 29,4 ad arrivare, 1,14,8 raguaglio cronometrico, facile assunto in percorso di testa per Enterprise Gar Antonio Di Nardo per il training di Afrim Shmidra che replicano la vittoria appena ottenuta con Electra ZS, i colori del signor Giuseppe Truppo, avere una bella vittoria per questa Enterprise Gar, la terza consecutiva, cavalla interessante, vince nettissima, al secondo finisce l'uno di Eros Gad, dal terzo posto probabilmente Eschal Mill si salva da Ennio Griff.